A questo lato c'è i nostri giovanissimi allenati dal grande mister Gabriele di Felice, il suo è il primo anno dell'era di questa nuova società, Virtus Castelfentano, il mister sta distribuendo le casacche, adesso si accinge a fare una partitella con i ragazzi con la casacca rossa e gli altri rimarranno con la classica tenuta d'allenamento giallo-blu. Questo test odierno servirà al mister per stilare la formazione da mandare in campo domani giovedì 16 febbraio, c'è il recupero di campionato provinciale categoria giovanissimi, girone unico di Chiti, c'è il recupero della gara non disputata a Fara San Martino per neve del mese di 16 gennaio, giocheranno domani alle ore 17 a Fara San Martino, è una partita tosta, ma sicuramente i ragazzi daranno il tutto per riportare i tre punti a Castelfentano. domani torniamo nel mio passato calcistico con il cuore, lì ho lasciato tanti amici, tanti ragazzi, sarà una bella partita e un bel rivedere dei vecchi amici. bene bene, auguri mister, in bocca al lupo!